Nell'episodio odierno di una serie televisiva che stiamo seguendo, c'è stato un momento particolarmente intrigante e misterioso che ha attirato la mia attenzione e che vorrei discutere più approfonditamente con voi. Durante una scena chiave, Fikret e Chetín, due personaggi della serie, si trovavano in una situazione dove cercavano informazioni riguardanti un altro personaggio centrale, Demir. Mentre si svolgeva questa scena, ho notato qualcosa di strano e inaspettato. Una sagoma oscura e misteriosa è apparsa sullo sfondo, quasi nascosta ma abbastanza evidente da essere notata. Questa apparizione improvvisa e sottile ha immediatamente catturato la mia attenzione e ha fatto scattare una serie di domande nella mia mente. La sagoma sembrava avere delle caratteristiche che mi hanno fatto pensare potesse essere Demir stesso. Questo mi ha portato a riflettere. È possibile che Demir stesse spiando Fikret e Chetín? Se fosse davvero lui, quali potrebbero essere le sue intenzioni? Questo tipo di comportamento da parte di Demir non sarebbe del tutto fuori dal carattere, considerando la sua personalità complessa e i precedenti sviluppi della trama. La possibilità che Demir stia effettivamente seguendo e osservando Fikret e Chetín solleva una serie di interrogativi sulle dinamiche e sulle tensioni all'interno della storia. Potrebbe essere un segno che Demir non si fida di loro o che ha dei piani segreti? Oppure potrebbe essere semplicemente una coincidenza o un errore di percezione da parte mia? Vorrei condividere queste mie riflessioni con voi e sentire le vostre opinioni al riguardo. Secondo voi potrebbe essere realmente Demir quella figura misteriosa che abbiamo visto? Quali sono le vostre teorie e ipotesi su ciò che potrebbe significare questa sua presenza nascosta nella scena? La discussione è aperta e sono curioso di sentire le vostre idee e interpretazioni su questo interessante sviluppo della trama. Sermin, una figura centrale e rispettata nella sua comunità, si impegna profondamente nell'organizzazione della cerimonia di circoncisione, un evento di grande significato culturale e familiare. Con un mix di passione e dedizione si dedica alla pianificazione dell'evento, curando ogni singolo dettaglio con attenzione e precisione. La sua abilità nell'organizzazione e la sua attenzione ai dettagli sono evidenti in ogni aspetto dell'evento, dal cibo alla decorazione, dai rituali alle ospitalità per gli ospiti. La sua intenzione è quella di rendere la cerimonia un evento memorabile e perfetto in ogni sua parte. Tuttavia, la situazione si complica quando entra in scena Sanie, un altro membro di spicco della famiglia. Sanie, conosciuta per il suo carattere forte e per le sue opinioni spesso intransigenti, non condivide l'approccio e le decisioni prese da Sermin per l'organizzazione dell'evento. Questa divergenza di opinioni crea una tensione evidente, portando a frequenti scontri verbali tra le due. Sanie, che ha le sue idee su come dovrebbe essere gestito l'evento, critica apertamente le scelte di Sermin, provocando attriti e malumori all'interno della famiglia e tra i collaboratori. Questa situazione diventa ancora più tesa quando le figure iniziano a confrontarsi su aspetti specifici dell'evento. Per esempio, mentre Sermin preferisce un approccio più moderno e innovativo per alcuni aspetti della cerimonia, Sanie insiste su un approccio tradizionale, sottolineando l'importanza del rispetto delle tradizioni e dei valori culturali. Queste differenze di visione portano a una serie di discussioni accese, con entrambe le parti che cercano di imporre il proprio punto di vista. La situazione si complica ulteriormente quando altri membri della famiglia e della comunità iniziano a prendere parte al dibattito, schierandosi con una o l'altra. Alcuni apprezzano l'approccio innovativo di Sermin, vedendolo come un modo per rinnovare le tradizioni e renderle più adatte ai tempi moderni. Altri, invece, si trovano d'accordo con Sanie, credendo fermamente nell'importanza di mantenere intatte le tradizioni e di trasmetterle alle generazioni future nella loro forma originale. Il conflitto tra modernità e tradizione, come quello che vediamo tra Sermin e Sanie nella nostra storia, rispecchia una questione universale che tocca profondamente molte famiglie e comunità in tutto il mondo. Questa disputa, che a prima vista potrebbe sembrare limitata all'organizzazione di un evento come una cerimonia di circoncisione, in realtà, si estende molto più in profondità, toccando le radici stesse di come le persone vedono e interagiscono con il mondo che le circonda. Da un lato abbiamo Sermin, che rappresenta la modernità e il progresso. Sermin crede nell'importanza dell'innovazione e nel portare nuove idee e approcci alla tradizione. La sua visione è quella di una comunità che si evolve, che non teme di sfidare le convenzioni per migliorare e adattarsi ai tempi moderni. Per Sermin, accettare il cambiamento non significa abbandonare il passato, ma piuttosto arricchirlo e renderlo più rilevante per le generazioni presenti e future. Dall'altro lato c'è Sanie, che incarna il desiderio di conservare e rispettare le tradizioni. Per Sanie, le tradizioni sono più che semplici abitudini. Sono il fondamento della cultura e dell'identità della comunità. Sanie vede le tradizioni come un legame vitale con il passato, un'eredità preziosa che deve essere protetta e tramandata senza alterazioni. Per lei, l'aderenza alle usanze e ai modi di fare consolidati è un modo per onorare gli antenati e mantenere un senso di continuità e stabilità nella vita comunitaria. Questa tensione tra il desiderio di cambiamento di Sermin e la resistenza di Sanie alle modifiche delle tradizioni è un riflesso di un dibattito molto più ampio che si svolge in molte società. In tutto il mondo, le comunità si trovano a confrontarsi con la sfida di bilanciare il rispetto per il passato, con la necessità di adattarsi al futuro. Questo equilibrio non è mai facile da trovare e spesso porta a dibattiti accesi e decisioni difficili. Inoltre, il conflitto tra modernità e tradizione si manifesta in molti aspetti della vita quotidiana, nell'educazione, nella religione, nelle pratiche sociali e persino nella politica. Ogni generazione cerca il proprio modo di navigare in queste acque, cercando di trovare un equilibrio tra il desiderio di rispettare ciò che è stato tramandato e la necessità di creare un percorso che sia proprio e adatto ai tempi in cui vivono. La disputa tra. Sermin e Sanie, quindi, è emblematica di questi scontri più ampi. Il loro confronto non è solo una questione di preferenze personali, ma un simbolo delle lotte che molte persone affrontano mentre cercano di trovare il loro posto in un mondo in rapida evoluzione. In questa storia, il conflitto tra modernità e tradizione non è solo un tema di sfondo, ma diventa un elemento centrale che guida l'interazione tra i personaggi, influenzando le loro decisioni, le loro relazioni e, in ultima analisi, il corso della storia stessa. In questa atmosfera carica di tensione e di emozioni forti, la storia si sviluppa in maniera sempre più coinvolgente, mostrando come le decisioni e le opinioni di un singolo individuo possano influenzare non solo un evento importante, ma anche le relazioni e gli equilibri all'interno di una famiglia e di una comunità intera. Questa narrazione, ricca di sfumature e di conflitti interni, cattura l'attenzione dello spettatore, invitandolo a riflettere sui temi della tradizione, del cambiamento e del ruolo che ciascuno di noi gioca all'interno della propria cultura e famiglia. La situazione si aggrava inaspettatamente quando Sanie, forse in un impeto di rabbia o per un tragico errore, investe Sermin con un furgoncino. Questo incidente scioccante risulta in gravi conseguenze fisiche per Sermin, che subisce una frattura alla gamba. L'incidente non solo aumenta la tensione e il conflitto all'interno della famiglia, ma getta anche un'ombra cupa sull'evento che stanno organizzando. Nonostante l'incidente e le sue ripercussioni, la cerimonia di circoncisione deve continuare. L'Utfai, un altro membro rispettato della famiglia, si fa avanti per prendere il posto di Sermin nell'organizzazione dell'evento. Con un misto di determinazione e sensibilità, L'Utfai riesce a superare le aspettative, organizzando la cerimonia in modo impeccabile. Riceve elogi e riconoscimenti da tutti i partecipanti per il suo lavoro eccezionale, stabilendo così la sua reputazione come organizzatrice competente e affidabile. Nel frattempo, Sermin, ora costretta a riposare a causa della sua gamba fratturata, si ritrova in una situazione di impotenza. Nonostante le sue limitazioni fisiche, Sermin non perde la sua natura dominante e assertiva. Continua a esercitare la sua influenza, tormentando Betul, Fusun e Saniye, con il suo comportamento esigente e talvolta irragionevole. Nella nuova puntata di questa avvincente serie, il focus si sposta su Betul, un personaggio dalla forte ambizione e dalla determinazione incrollabile. Betul è descritta come una donna con una visione chiara e un obiettivo definito. Vuole a tutti i costi prendere il controllo dell'azienda della famiglia Yaman. Ma c'è un grande ostacolo sul suo cammino, un ostacolo che porta il nome di Erkan, un altro membro influente della famiglia. Erkan, con la sua presenza dominante e la sua influenza nell'azienda, rappresenta un serio problema per i piani di Betul. La nostra protagonista, tuttavia, non è tipo da arrendersi facilmente. Con una determinazione ardente, decide di cercare una soluzione per superare questo ostacolo. È qui che entra in gioco Abdul Qadir, una figura saggia e consigliere di fiducia. Betul si rivolge a lui nella speranza di trovare una strategia efficace per raggiungere il suo scopo. Abdul Qadir, dopo aver ascoltato attentamente i problemi e le ambizioni di Betul, propone una soluzione tanto audace quanto inaspettata. Sedurre Erkan. Questa idea lascia Betul sorpresa, ma allo stesso tempo intrigata. La seduzione, uno strumento potente e sottile, potrebbe effettivamente dare a Betul il vantaggio e l'influenza necessari per scalare la archia aziendale e superare Erkan. La decisione di Betul di adottare questa strategia rischiosa è un momento cruciale. Lei, con un misto di eccitazione e ansia, decide di andare avanti con il piano. Questa scelta non solo mostra la profondità del suo desiderio di successo, ma mette anche in luce la complessità del suo personaggio. Una donna pronta a sfidare le convenzioni e a prendere rischi enormi per realizzare i suoi sogni. Mentre Betul si prepara a mettere in atto il suo piano, il pubblico è portato a riflettere sulla natura del potere, dell'ambizione e delle scelte morali. La sua azione audace solleva domande sull'etica e sulle conseguenze delle sue azioni, sia per se stessa che per già gli altri coinvolti. In questo modo la trama si addentra in una zona ancora più oscura e complessa, dove le decisioni di un singolo personaggio possono avere ripercussioni a lungo termine su tutti quelli che lo circondano. L'episodio si conclude lasciando gli spettatori in sospeso, curiosi di scoprire come si svilupperà questa audace mossa di Betul. La tensione sale e si chiaramente che le scelte fatte in questo episodio avranno un impatto significativo sugli eventi futuri, sia per Betul che per l'intera famiglia Yaman. All'interno della trama della nostra amata serie, uno dei misteri più intriganti e che tiene tutti con il fiato sospeso è senza dubbio il destino di Demir. Questo personaggio, che ha catturato l'attenzione e l'affetto del pubblico, è scomparso in circostanze misteriose, lasciando dietro di sé una scia di domande senza risposta. Nonostante gli sforzi incessanti e le ricerche approfondite condotte dai personaggi della serie, ancora non si sa con certezza cosa sia accaduto realmente a Demir. Questo enigma ha gettato tutti, sia i personaggi che gli abitanti del villaggio di Cukurova, in uno stato di perenne incertezza e ansia. La mancanza di informazioni concrete su Demir aggiunge una tensione palpabile alla storia. Ogni personaggio, in un modo o nell'altro, sembra essere toccato dalla scomparsa di Demir. Le loro vite, le loro azioni e persino i loro pensieri sono influenzati da questo grande interrogativo. Questa sottotrama misteriosa, intrecciata abilmente nella narrazione principale, serve a intensificare l'atmosfera già densa di suspense e conflitto, rendendo ogni episodio ancora più coinvolgente e imprevedibile. La domanda che tutti si pongono, e che sicuramente anche voi, cari spettatori, vi state facendo, è «Demir è davvero morto? Oppure c'è una possibilità che possa fare un clamoroso ritorno a Cukurova?». Questa domanda apre un mare di possibilità narrative. Da una parte, la morte di Demir potrebbe essere una conclusione definitiva, un tragico epilogo che lascia una cicatrice indelebile nei cuori dei personaggi e degli spettatori. D'altra parte, l'idea che Demir possa essere ancora vivo e che possa fare un ritorno inaspettato aggiunge un ulteriore livello di eccitazione e speculazione alla storia. Immaginate solo la sorpresa e l'emozione che un suo ritorno potrebbe suscitare. Come reagirebbero gli altri personaggi? Quali segreti potrebbe svelare? E quali nuove dinamiche e conflitti potrebbero emergere dal suo ritorno? La potenziale trama del ritorno di Demir è ricca di possibilità e potrebbe portare a sviluppi completamente nuovi e inaspettati nella storia. In una serie televisiva come questa, che si distingue per la sua capacità di sorprendere il pubblico con una serie ininterrotta di colpi di scena e trame complesse, è chiaro che nulla è mai come sembra. Questa premessa rende la scomparsa di Demir un enigma particolarmente affascinante e multistrato. La domanda che tutti ci poniamo è, cosa è realmente accaduto a Demir, la sua scomparsa potrebbe essere un intricato inganno, un piano elaborato con grande astuzia per ragioni che ancora dobbiamo scoprire. Forse Demir ha orchestrato la sua stessa sparizione per scopi nascosti, magari per proteggersi da una minaccia sconosciuta o per manipolare gli agli eventi a suo vantaggio da dietro le quinte. D'altra parte c'è sempre la possibilità che la scomparsa di Demir sia la triste realtà che tutti temono. Potrebbe essersi trovato in una situazione pericolosa da cui non è riuscito a uscire, o forse è stato vittima di un destino crudele e inevitabile. Questa prospettiva aggiunge un senso di gravità e urgenza alla storia, poiché i personaggi e gli spettatori desiderano ardentemente scoprire la verità e sperano in un esito positivo. Il mistero che circonda Demir gioca un ruolo cruciale nel mantenere gli spettatori completamente assorbiti dalla narrazione. Ogni episodio che non offre risposte aumenta la tensione e l'attesa. Questo mistero funge anche da catalizzatore per lo sviluppo di altri personaggi e trame secondarie. Mentre cercano di far luce sulla scomparsa di Demir, i personaggi si trovano a confrontarsi con i propri segreti, paure e ambizioni, rivelando aspetti del loro carattere che forse non avevano mai mostrato prima. Allo stesso tempo, nuove alleanze si formano e vecchie rivalità si intensificano, poiché il vuoto lasciato da Demir crea nuove dinamiche di potere e influenza. Inoltre, il mistero attorno a Demir stimola una varietà di teorie tra gli spettatori. In una serie così piena di sorprese, i fan si trovano a ipotizzare scenari sempre più creativi e intricati, discutendo e confrontando le loro idee nei forum online e nei social media. Questa partecipazione attiva arricchisce l'esperienza di visione, trasformando la serie in un fenomeno culturale che va oltre i singoli episodi. In conclusione, la scomparsa di Demir non è solo un aspetto fondamentale della trama, ma è anche un elemento che contribuisce in modo significativo alla popolarità e al fascino della serie. Ci tiene incollati allo schermo, ansiosi di scoprire ogni nuovo indizio, e ci invita a essere parte attiva nella narrazione, formulando le nostre teorie e speculazioni. È questa imprevedibilità e complessità che rende la serie così avvincente e appassionante, mantenendo gli spettatori in uno stato di continua aspettativa e coinvolgimento. La domanda che mi frulla in testa, e che ora pongo a voi, è questa. Credete davvero che Demir sia morto? O, come me, nutrite segretamente la speranza che possa fare un ritorno a sorpresa in una delle prossime puntate? So che ognuno di voi potrebbe avere una teoria diversa, alcune forse più ottimiste, altre magari più realistiche, basate sui vari indizi e sugli sviluppi della trama che abbiamo visto fino ad ora. Le vostre teorie, ipotesi e persino le vostre speculazioni più selvagge sono incredibilmente preziose per me. Non solo arricchiscono il dibattito, ma aggiungono anche quella scintilla di creatività e immaginazione che rende la visione di questa serie un'esperienza così unica e coinvolgente. Quindi vi invito calorosamente a condividere i vostri pensieri nei commenti sotto al video. Sia che siate convinti della scomparsa definitiva di Demir, sia che speriate in un suo clamoroso ritorno, ogni opinione è benvenuta e contribuirà a creare una conversazione davvero stimolante. La vostra partecipazione è interessante da discutere. Parliamo di Betul, un personaggio della nostra storia, e cerchiamo di capire se ha avuto un ruolo nel rapimento di Demir, un altro personaggio importante. Questa è una domanda che molti si stanno ponendo, quindi cerchiamo di analizzarla insieme. Innanzitutto dobbiamo considerare chi è Betul. Lei è una figura intrigante, nota per la sua intelligenza e astuzia. È sempre stata molto ambiziosa e ha dimostrato di fare quasi tutto per raggiungere i suoi scopi. Questa caratteristica ci fa pensare che potrebbe essere coinvolta in qualcosa di grande, come il rapimento di Demir. Poi c'è il fatto del rapimento di Demir stesso. È stato un evento shock che ha lasciato tutti a bocca aperta. Successivamente abbiamo scoperto che Demir è stato ucciso per errore dopo essere stato rapito. Questa svolta tragica porta con sé molte domande. Una delle più grandi è chi c'è dietro a tutto questo? Qui entra in gioco la possibilità che Betul possa essere coinvolta. Dato il suo desiderio di potere e controllo, potrebbe aver pensato che rapire Demir le avrebbe dato un vantaggio. Questo ci porta a un'altra figura chiave. Hakan. Hakan è un personaggio che, come Betul, ha mostrato di non avere scrupoli. Potrebbero aver collaborato in questo piano? È una teoria interessante. D'altra parte, dobbiamo considerare anche che Betul potrebbe non essere coinvolta. Potrebbe essere solo una coincidenza o forse c'è qualcun altro dietro al rapimento di Demir. Dobbiamo ricordare che in storie come questa le apparenze possono essere ingannevoli e ci possono essere molti colpi di scena. Quindi, cosa ne pensate voi? Credete che Betul sia coinvolta nel rapimento di Demir? Potrebbe aver collaborato con Hakan? O pensate che sia innocente in questa situazione? Queste sono tutte domande aperte che aggiungono suspense alla nostra storia. Sono molto curioso di sapere le vostre opinioni, quindi scrivete nei commenti sotto al video cosa ne pensate. La vostra opinione è molto importante e può aiutarci a vedere questa storia da prospettive diverse. Aspetto di leggere i vostri commenti. In una casa chiamata Villa Yaman, a gennaio, ci saranno novità su un uomo di nome Demir. Due donne, Betul e Sermin, riceveranno un pacchetto per Zuleia. C'è un anello e un biglietto da Demir che dice che tornerà presto. Lutfie, Fikret e Fekeli, amici di Zuleia, pensano che Demir sia ancora vivo e in un posto lontano, la Siria. Betul e Sermin sono preoccupate perché se Demir torna, potrebbero perdere il loro posto importante in un'azienda. Un giorno, mentre Zuleia è seduta nel suo salotto, pensando a Demir, sente un rumore fuori dalla porta. Va a vedere e trova un postino che le sorride. Il postino le dà un piccolo pacchetto. Zuleia, un po' sorpresa, lo apre con cura e trova qualcosa di molto speciale dentro, un bellissimo anello scintillante e un biglietto. Il biglietto è da Demir, l'uomo che lei pensava fosse morto. Nel biglietto, Demir scrive poche parole, ma sono molto importanti. Dice che sta bene e tornerà presto. Queste parole riempiono il cuore di Zuleia di gioia e speranza. Finalmente, dopo tanto tempo, sorride di nuovo. Poco dopo, Zuleia chiama i suoi amici Fikret e Fekeli per condividere la notizia. Quando arrivano, lei mostra loro l'anello e il biglietto. Fikret e Fekeli guardano il biglietto attentamente. Conoscono bene la scrittura di Demir e confermano che il biglietto è davvero stato scritto da lui. Questa conferma rende Zuleia ancora più felice. Ora sa che Demir è vivo e pensa a lui. E questo la riempie di felicità e speranza per il futuro. Questa notizia cambia completamente la giornata di Zuleia. Prima triste e preoccupata, ora si sente piena di energia e ottimismo. Aspetta con ansia il giorno in cui Demir tornerà a casa e potranno essere di nuovo insieme. Nel frattempo, tiene l'anello sempre con sé come un simbolo del loro amore e della promessa di Demir di tornare. Nel frattempo, Betul e Sermin sono arrabbiate perché non sono incluse in una riunione importante. Betul ha paura di perdere il controllo dell'azienda se Demir torna. Scoprono che il biglietto per Zuleia viene dalla Siria e pensano a come riportare Demir a casa. Betul è una ragazza ambiziosa e vuole avere più potere. Dopo che Demir scompare, prende più controllo nell'azienda. Lei vuole anche controllare altre aziende e farà di tutto per raggiungere il suo scopo. In questa nostra discussione vogliamo esplorare più a fondo il ruolo di Betul nel rapimento di Demir. Dopo un'attenta analisi dei fatti e del comportamento di Betul, siamo giunti alla conclusione che lei potrebbe davvero essere coinvolta in questo misterioso evento. Vediamo perché pensiamo così. Partiamo dal carattere di Betul. Lei è una figura molto ambiziosa e determinata, sempre alla ricerca di modi per aumentare il suo potere e influenza. La sua sete di controllo è evidente in molte situazioni, specialmente quando si tratta dell'azienda Yaman, un'entità di grande importanza nella storia. Betul ha sempre mostrato un grande interesse per questa azienda e per il potere che potrebbe ottenere controllandola. Ora consideriamo la scomparsa di Demir. Demir è una figura chiave nell'azienda e nella vita di molti personaggi. La sua assenza crea un enorme vuoto di potere, una situazione che qualcuno ambizioso come Betul potrebbe vedere come un'opportunità d'oro. Se Demir fosse fuori dai giochi, Betul avrebbe avuto campo libero per prendere il controllo dell'azienda e aumentare la sua influenza. Questa potenziale opportunità potrebbe aver spinto Betul a compiere o, almeno, a essere coinvolta nel rapimento di Demir. La sua motivazione sarebbe chiara. Senza Demir non ci sarebbero ostacoli tra lei e la direzione dell'azienda. Inoltre, il rapimento di Demir ha creato un caos tale da distrarre gli altri personaggi, permettendo a Betul di muoversi indisturbata. Tuttavia, è importante ricordare che queste sono solo teorie basate su indizi e comportamenti. Non abbiamo prove concrete che Betul sia effettivamente coinvolta nel rapimento di Demir. Potrebbe anche essere che le sue azioni siano state malinterpretate o che ci sia qualcun altro dietro al rapimento di Demir. In conclusione, sebbene ci siano diversi indizi che suggeriscono il coinvolgimento di Betul nel rapimento di Demir, non possiamo affermarlo con certezza assoluta. Questo mistero aggiunge un ulteriore livello di suspense e complessità alla storia, rendendola ancora più intrigante. Resta da vedere. Nel dramma Terra Amara, Zuleyat affronta un periodo doloroso e decisivo, il commiato dal suo sposo Demir. Sceglie di rendere il funerale un evento intimo e personale, escludendo la partecipazione della comunità di Syukurova. Seguendo la cerimonia funebre, Zuleyat si ritroverà in un momento di solitudine per esprimere il suo addio a Demir, un momento in cui darà sfogo al dolore accumulato durante gli anni a causa della loro relazione complessa e sfaccettata. La morte di Demir è stata confermata dalla polizia dopo che il suo corpo è stato trovato da alcuni operai in un frigorifero in un magazzino abbandonato. Non è chiaro cosa sia successo veramente, ma la polizia pensa che Demir possa essere stato ucciso il giorno dell'assalto a Villa Yaman. Zuleyat è triste, ma non riesce a dimenticare le sofferenze che Demir le ha causato. In passato lui l'ha accusata di tradimento e le ha portato via i figli e a volte ha persino pensato di ucciderla. Ora Demir se ne è andato e Zuleyat ha il compito di organizzare il suo funerale, dove avrà ancora qualcosa da dirgli. Nel suo discorso al funerale Zuleyat riflette sui suoi sentimenti per Demir. Per quali peccati dovrei perdonarti Demir? Mi hai deluso tanto. Forse quello che provavi era amore, ma ora sto seppellendo tutta la rabbia che ho nei tuoi confronti per i nostri figli Adnan e Leila. Sei stato un buon padre, a prescindere da tutto, e ora spero che qualcuno possa perdonare i tuoi peccati. Il funerale sarà un evento riservato solo per familiari e amici intimi. Ci saranno Fikret, il fratellastro di Demir, i suoi fedeli Gaffur e Sanie, e anche Sermin insieme a Betül, le cugine di Demir. Nonostante i disaccordi passati, alla fine sono le uniche parenti rimaste nella famiglia Yaman. La tragica notizia della morte di Demir Yaman, un personaggio centrale della serie tv Terra Amara, ha lasciato tutti sotto shock. La polizia ha confermato ufficialmente la sua morte dopo un macabro ritrovamento. Il corpo di Demir è stato trovato da alcuni operai in un all'interno di un magazzino abbandonato. Questa scoperta ha creato molte domande e ha portato a diverse speculazioni su cosa sia realmente accaduto a Demir. La polizia, dopo aver esaminato la scena e raccolto le prime prove, ha iniziato a formulare una teoria su ciò che potrebbe essere accaduto. Sospettano che Demir possa essere stato ucciso il giorno dell'assalto a Villa Yaman, suggerendo che la sua morte potrebbe essere collegata a quell'evento violento e turbolento. Questa ipotesi solleva ulteriori interrogativi. Chi potrebbe averlo ucciso e perché? C'è una connessione tra l'assalto alla villa e la morte di Demir? Le indagini della polizia continuano, ma ci sono ancora molti dettagli oscuri e non chiariti. La comunità di Siukurova è in attesa di risposte e la famiglia e Gili amici di Demir sono in preda al dolore e alla confusione. La morte di Demir non è solo una perdita personale per coloro che Gili erano vicini, ma rappresenta anche un punto di svolta significativo nella storia di Terra Amara. Gli operai che hanno fatto la scoperta erano al lavoro in un'area isolata quando si sono imbattuti nel magazzino abbandonato. All'interno hanno trovato il frigorifero, un ritrovamento insolito in un luogo del genere. Quando hanno aperto il frigorifero hanno trovato il corpo senza vita di Demir, un evento che ha immediatamente scatenato un'indagine da parte delle autorità. Nel frattempo la comunità locale e gli ali spettatori della serie si trovano ad affrontare l'incertezza e il mistero che circonda questa morte improvvisa e scioccante. Molti si chiedono se verrà mai alla luce la verità completa su ciò che è accaduto a Demir, un uomo che, nonostante le sue imperfezioni, ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di molte persone. Questa svolta nella storia di Terra Amara promette di portare nuovi sviluppi drammatici e rivelazioni sorprendenti. Zuleya è triste ma non riesce a dimenticare le sofferenze che Demir le ha causato. In passato lui l'ha accusata di tradimento e le ha portato via i figli e a volte ha persino pensato di ucciderla. Ora Demir se ne è andato e Zuleya ha il compito di organizzare il suo funerale dove avrà ancora qualcosa da dirgli. Zuleya si ferma un momento guardando il silenzioso pubblico davanti a lei, poi continua. Ho passato tante notti a pensare alle parole giuste da dire, alle emozioni che mi hai fatto provare. Ora, mentre sto qui, sento che sto seppellendo tutta la rabbia che ho accumulato nei tuoi confronti. Questa rabbia però non è solo mia, e anche per i nostri figli, Adnan e Leila, che hanno sofferto a causa della nostra relazione turbolenta. Con un sospiro Zuleya aggiunge, nonostante tutto devo riconoscere che sei stato un buon padre. Hai avuto i tuoi momenti, momenti in cui hai mostrato amore e cura per Adnan e Leila e per questo ti sono grata. Nonostante le nostre difficoltà, hai cercato di fare del tuo meglio per loro. Poi, guardando verso il cielo, conclude, ora spero che qualcuno possa perdonare i tuoi peccati così come sto cercando di fare io. Spero che tu possa trovare pace e che anche noi possiamo trovare la nostra. Il suo discorso si conclude in un silenzio profondo, lasciando tutti i presenti a riflettere sulle parole sincere e toccanti di Zuleya. Il funerale di Demir Yaman, un evento centrale nella trama della serie Terra Amara, sarà un'occasione molto privata e riservata. Zuleya, la moglie di Demir, ha deciso che solo familiari e amici intimi potranno partecipare a questa cerimonia. Sarà un momento di riflessione e di addio per tutti coloro che erano vicini a Demir, un personaggio che ha avuto un impatto significativo nella serie e nelle vite dei personaggi. Anche Gaffur e Sanie, due figure fedeli e di lunga data nella vita di Demir, saranno presenti. Hanno servito la famiglia Yaman per anni e la loro presenza al funerale rappresenterà la loro lealtà e il loro affetto per Demir. Questo sarà un momento particolarmente toccante per loro, poiché chiudono un capitolo importante della loro vita. Fikret, il fratellastro di Demir, sarà uno dei presenti al funerale. La loro relazione è stata complessa, segnata da momenti di tensione, ma nonostante ciò, Fikret si sentirà obbligato a salutare Demir un'ultima volta. La sua presenza dimostrerà il forte legame familiare che, nonostante le difficoltà, è rimasto intatto fino alla fine. La cerimonia funebre sarà un momento emozionante e significativo, non solo per i personaggi che partecipano, ma anche per gli spettatori che hanno seguito la serie. Ognuno di questi personaggi rifletterà sul proprio rapporto con Demir, ricordando sia i bei momenti che le sfide che hanno affrontato insieme. Questo funerale non sarà solo un addio a Demir, ma anche un'opportunità per i personaggi di riflettere sulla loro vita e sulle loro scelte. In sintesi, il funerale di Demir sarà un evento carico di emozioni, un momento in cui i personaggi di Terra Amara si uniranno per ricordare un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella loro vita e nella storia della serie. Sarà un'occasione per dire addio, ma anche per celebrare la vita e l'eredità di Demir Yaman. La presenza di Sermine Betul al funerale non è solo un atto di rispetto nei confronti di Demir, ma anche un simbolo potente del legame familiare che resiste nonostante le avversità. Questo evento li porta a mettere da parte le loro divergenze, mostrando come il senso di appartenenza a una famiglia possa prevalere anche nei momenti più bui. Il funerale diventa così un punto di incontro, un momento in cui il passato, con tutte le sue difficoltà, si intreccia con il presente, rivelando un'affettività e una solidarietà che forse erano state dimenticate o messe da parte. La loro presenza è anche una testimonianza di come i legami familiari, anche quelli segnati da tensioni e incomprensioni, possano rivelare una forza insospettata in circostanze straordinarie. Sermine e Betul, attraverso la loro partecipazione al funerale, mostrano una faccia diversa del loro carattere, una che è capace di empatia, di compassione e di un senso di unità che va oltre i disaccordi del passato. Questo aspetto della storia aggiunge una nuova dimensione alla narrazione, offrendo agli spettatori un'occasione per riflettere sulla complessità delle relazioni familiari e sull'importanza di ritrovare un senso di unità e appartenenza anche nei momenti più difficili. La presenza di Sermine e Betul al funerale di Demir diventa così un simbolo potente di riconciliazione, di perdono e di una solidarietà familiare che persiste a dispetto delle sfide della vita. Ricordati un taglio molto interessante che forse alcuni di voi hanno notato, il ciondolo indossato da Abdul Qadir. Questo piccolo ma significativo elemento è apparso in una scena chiave, catturando brevemente l'attenzione della camera. Ecco perché è importante analizzare questo particolare per comprenderne meglio il significato e l'importanza all'interno della trama. Il ciondolo, che potrebbe sembrare un semplice accessorio a prima vista, potrebbe in realtà nascondere un significato molto più profondo e collegato agili sviluppi futuri della storia. In molti show oggetti come questo sono spesso simbolici o portatori di messaggi nascosti, quindi è fondamentale prestare attenzione a questi dettagli apparentemente minori. Ora vi starete chiedendo cosa rappresenti esattamente questo ciondolo e perché sia così importante per la trama. Abbiamo condotto delle ricerche approfondite e abbiamo alcune teorie interessanti da condividere con voi. Questo ciondolo potrebbe essere un legame con il passato di Abdul Qadir, forse un ricordo di una persona cara o un momento significativo della sua vita. Potrebbe anche essere un indizio su una relazione segreta o un'alleanza non ancora rivelata nella serie. Inoltre questo ciondolo potrebbe avere un significato culturale o storico che aggiunge un ulteriore livello di complessità al personaggio di Abdul Qadir. A volte oggetti come questi sono usati dai creatori della serie per dare profondità ai personaggi o per creare un collegamento con temi più ampi come l'amore, il tradimento o la vendetta. Vi invitiamo quindi a rimanere con noi fino alla fine di questo video perché stiamo per svelarvi il significato di questo ciondolo. Vi forniremo un'analisi dettagliata basata su interviste, teorie dei fan e la nostra interpretazione degli eventi della serie. Questa rivelazione potrebbe gettare una nuova luce su Abdul Qadir e su ciò che potrebbe accadere nei prossimi episodi. Non perdete questa opportunità di approfondire uno degli aspetti più intriganti e potenzialmente rivelatori di terra amara. Fekeli nel corso delle stagioni si è guadagnato il cuore degli spettatori grazie al suo carattere forte ma giusto, diventando uno dei pilastri della serie. La sua morte improvvisa lascia un vuoto non solo nel cuore dei fan ma anche nella vita dei personaggi della serie, in particolare quella di Zuleia e Fikret, due figure chiave nella storia. La scomparsa di Fekeli li costringe a rivedere i loro piani e strategie, trovandosi a dover affrontare nuove e complesse sfide in un contesto già di per sé intricato e pieno di tensioni. La causa della morte di Fekeli viene inizialmente attribuita a un infarto, un evento non completamente inaspettato data la sua preesistente condizione cardiaca. Tuttavia, man mano che la storia si sviluppa, emergono dettagli che gettano ombre e dubbi su questa spiegazione. La verità dietro la sua morte è molto più complessa e intricata di quanto sembri a prima vista e la rivelazione di questa verità promette di essere un altro momento di grande impatto nella serie. Senza dubbio, la scomparsa di Fekeli rappresenta un momento di grande emotività e di svolta narrativa all'interno di Terra Amara. Il modo in cui questo evento influenzerà i personaggi rimasti e l'intera trama della serie è qualcosa che gli spettatori aspettano con trepidazione. Le implicazioni di questa perdita si faranno sentire nei cuori e nelle vite di tutti i personaggi, portando a nuovi sviluppi e possibili colpi di scena nella storia già ricca e avvincente di Terra Amara. Nelle anticipazioni di Terra Amara emergono dettagli sulla morte di Fekeli. La sua fine è legata all'arrivo a Cukurova di Akan Gumusoglu, che si finge Mehmet Kara. Quest'ultimo, arrabbiato con il padre di Yilmaz per un tragico incidente, inizialmente decide di far morire Fekeli sabotando la sua auto. Tuttavia cambia idea, riconoscendo l'accidentale natura dell'incidente che ha coinvolto suo fratello Erkan. Nonostante ciò, la sorte di Ali Rahmet è segnata. Scoprendo che Mehmet è in realtà Haqqan, intenzionato a vendicarsi di Demir, Fekeli va nell'officina di Abdul Qadir, senza informare ai suoi cari, scoprendo così la verità. La tragica morte di Ali Rahmet Fekeli in Terra Amara è uno di quegli eventi che scuotono profondamente le fondamenta di Cukurova, una piccola comunità dove tutti si conoscono e le notizie viaggiano veloci. La scomparsa di Fekeli avviene in circostanze davvero strane e misteriose, lasciando tutti con più domande che risposte. La storia inizia quando Fekeli, un personaggio amato e rispettato da tutti, cade in un tranello astutamente orchestrato. La sua fine è segnata da un'iniezione che, in apparenza, provoca un infarto. Questo gesto astuto e crudele lascia tutti senza parole, perché chi conosceva Fekeli sapeva che era un uomo forte e in salute, nonostante qualche problema al cuore. La notizia della sua morte si diffonde rapidamente in tutta Cukurova, creando un'atmosfera di tristezza e incredulità. Tra le persone più colpite c'è Zuleya, una donna forte e determinata, che non riesce a credere che la morte di Fekeli sia stata naturale. Lei conosceva bene Ali Rahmet e i suoi dubbi sulla causa della sua morte la spingono a indagare più a fondo. Zuleya, con il suo spirito indomito e la sua intelligenza, decide di non lasciare nulla di intentato per scoprire la verità. Nella sua ricerca della verità, Zuleya trova un'alleata inaspettata in Lutfaye, la zia di Fikret. Lutfaye è una donna saggia, con una profonda conoscenza delle persone e degli eventi di Cukurova. La sua esperienza e intuizione sono preziose per Zuleya. Insieme, iniziano a mettere insieme i pezzi di questo complesso puzzle. La svolta nelle indagini arriva in modo inaspettato. Un giorno, Lutfaye riceve una telefonata anonima. All'altro capo del telefono c'è un operaio di Abdul Qadir, un uomo stanco dei continui maltrattamenti subiti e desideroso di fare giustizia. Con voce tremante ma decisa, rivela a Lutfaye che Fekeli non è morto per cause naturali. È stato assassinato con del veleno, una rivelazione scioccante che getta una luce sinistra sugli eventi recenti. Tuttavia, l'operaio non rivela l'identità dell'assassino. Questo lascia Lutfaye e Zuleya in una situazione difficile. Da un lato vogliono giustizia per Fekeli e scoprire chi è dietro questo vile atto. Dall'altro sono consapevoli dei pericoli che questa ricerca della verità potrebbe comportare, soprattutto per Fikret, che potrebbe ritrovarsi in mezzo a un gioco pericoloso e oltre le sue capacità di gestire. Lutfaye, una donna dal carattere forte e dal cuore gentile, si trova in un vero e proprio dilemma. La rivelazione che la morte di Aliram et Fekeli non è stata naturale, ma frutto di un vile assassino pesa su di lei come un macigno. Notte dopo notte, Lutfaye giace sveglia nel suo letto, riflettendo sulla decisione da prendere. Il suo istinto le dice di andare alla polizia, di rivelare tutto quello che sa, ma poi pensa a Fikret e agli altri cari di Fekeli. Si rende conto che la verità potrebbe non solo sconvolgere le loro vite, ma anche metterle in pericolo. Fikret, in particolare, è al centro dei pensieri di Lutfaye. È un ragazzo giovane, pieno di vita, con un futuro promettente davanti a sé. Lutfaye teme che scoprire la verità sulla morte di Fekeli potrebbe spingerlo in un vortice di vendetta e odio, portandolo su un sentiero oscuro dal quale potrebbe non tornare indietro. Si chiede se valga la pena rischiare la felicità e la sicurezza di Fikret per una verità che potrebbe non portare altro che dolore e sofferenza. Giorno dopo giorno, Lutfaye osserva la vita quotidiana a Kukurova. Vede le persone andare avanti con le loro vite, ignare del segreto che lei custodisce gelosamente. Si rende conto che, nonostante il dolore e il vuoto lasciato dalla scomparsa di Fekeli, la comunità ha trovato un modo per andare avanti. Questa osservazione rafforza la sua decisione di mantenere il segreto. Lutfaye si confida con la sua amica più cara, cercando conforto e consiglio. La sua amica ascolta attentamente, comprendendo il peso che Lutfaye sta portando sulle sue spalle. Dopo una lunga conversazione, la sua amica le dice, a volte il silenzio è il regalo più grande che possiamo dare a chi amiamo. Queste parole risuonano dentro Lutfaye, dandole la forza di cui ha bisogno per andare avanti con la sua decisione. Mentre la vita a Kukurova continua, il mistero che avvolge la morte di Ali Ramet Fekeli rimane irrisolto, custodito gelosamente nelle profondità del cuore di Lutfaye. Il segreto è come un'ombra silenziosa che si muove tra le strade e le case di Kukurova, presente ma invisibile, un ricordo costante di una verità nascosta che potrebbe non vedere mai la luce. Alla fine, Lutfaye sceglie di mantenere il segreto sulla vera causa della morte di Fekeli. È una decisione che non prende alla leggera, ma sa che è il modo migliore per proteggere Fikret e gli altri cari di Fekeli. Con questa scelta, Lutfaye accetta di portare il peso di questo segreto, sapendo che potrebbe non essere mai risolto. Ma ora parliamo di Demir. Questo è un argomento che sta suscitando molte curiosità e dibattito. C'è chi pensa che Demir sia davvero morto, che la sua storia sia giunta al termine in modo tragico e definitivo. Questa teoria non è da scartare, perché spesso nelle serie tv assistiamo a colpi di scena del genere, dove personaggi principali lasciano la scena in modo improvviso e inaspettato. La morte di Demir potrebbe essere uno di quei momenti che cambiano il corso degli eventi, lasciando un segno indelebile nelle vite degli altri personaggi e negli spettatori. D'altra parte, c'è anche chi crede che Demir possa essere ancora vivo, magari nascosto in qualche remoto villaggio della Turchia. Questa teoria ha un suo fascino, non trovate? L'idea che Demir possa aver inscenato la propria morte per sfuggire a qualche pericolo o per pianificare qualcosa di grande è intrigante. Potrebbe essere lì, in attesa del momento giusto per fare il suo grande ritorno, magari per rivelare segreti inaspettati o per sconvolgere di nuovo la trama. E poi c'è l'aspetto emotivo della questione. Demir è un personaggio che ha saputo conquistare il cuore di molti spettatori. Alcuni di voi potrebbero sperare che sia ancora vivo, semplicemente perché si sono affezionati a lui e alla sua storia. Vedere un personaggio tanto amato uscire di scena può essere difficile e la speranza che sia ancora da qualche parte pronto a riapparire è una sorta di conforto. Una delle teorie più dibattute è che Demir sia realmente morto. Questa ipotesi, sebbene tragica, non è affatto improbabile dato il contesto drammatico e le svolte inaspettate che caratterizzano la serie. La morte potrebbe essere stata causata da una miriade di motivi, forse un incidente, forse un atto deliberato di un nemico nascosto. Se fosse così, sarebbe un colpo di scena che lascerebbe un segno indelebile nella storia e nei cuori dei personaggi e degli spettatori. D'altra parte c'è chi specula che Demir possa essere ancora vivo, nascosto in un remoto villaggio della Turchia. Questo scenario apre la porta a un'infinità di possibili sviluppi. Forse Demir sta pianificando il suo ritorno, forse sta cercando di proteggere se stesso o qualcun altro, o forse sta semplicemente cercando un momento di pace lontano dal caos che ha caratterizzato la sua vita. Questa teoria tiene viva la speranza che il personaggio possa ricomparire in un episodio futuro, magari in modo del tutto inaspettato? E poi c'è l'opzione che forse nessuno ha ancora considerato. Potrebbe esserci un'altra spiegazione, qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che abbiamo pensato finora. La serie ha dimostrato più volte di essere capace di sorprendere il suo pubblico con colpi di scena e rivelazioni inattese. Forse Demir è coinvolto in qualcosa di molto più grande di quanto si possa immaginare, qualcosa che potrebbe sconvolgere l'intera narrazione della serie. Quindi cosa ne pensate voi? Siete della stessa opinione o avete teorie completamente diverse su cosa sia realmente successo a Demir? La bellezza di questi dibattiti sta nel fatto che, fino a quando la serie non ci fornirà le risposte definitive, ogni teoria è possibile e ogni spettatore può immaginare il proprio finale o sviluppo preferito. Questo è ciò che rende terra amara, così avvincente, e ci tiene tutti con il fiato sospeso, episodio dopo episodio. Fateci sapere le vostre teorie, i vostri pensieri, le vostre speranze o semplicemente le vostre impressioni. Scrivete tutto nei commenti qui sotto al video. Sono curioso di leggere le vostre idee e di vedere quanti di voi hanno intuito il vero destino di Demir. Ricordate, in queste storie tutto è possibile e spesso la realtà supera la fantasia. Ora tornando al discorso del ciondolo di Abdul Qadir, vogliamo approfondire una teoria particolarmente intrigante che abbiamo sviluppato. Secondo noi, il ciondolo potrebbe non essere solo un semplice gioiello o un ornamento, ma potrebbe nascondere un segreto sorprendente e cruciale per la trama. Al ciondolo è attaccato il proiettile utilizzato per sparare a Demir. Questa teoria, se confermata, potrebbe cambiare completamente la nostra percezione degli eventi finora narrati nella serie. Inizialmente, il ciondolo potrebbe essere apparso come un mero accessorio, qualcosa di poco significativo. Tuttavia, con questa nuova prospettiva, il ciondolo assume un ruolo centrale nella storia, diventando un elemento chiave che potrebbe collegare a Abdul Qadir direttamente agili eventi drammatici che hanno coinvolto Demir. Dobbiamo considerare il contesto in cui il ciondolo è stato mostrato. La serie Terra Amara è nota per la sua abilità nel disseminare indizi e simbolismi che si rivelano importanti in seguito. L'inquadratura del ciondolo, quindi, potrebbe non essere stata casuale, ma un modo per guidare sottilmente l'attenzione dello spettatore su un dettaglio rivelatore. Se il ciondolo contiene davvero il proiettile usato per sparare a Demir, questo apre una serie di domande affascinanti. Perché Abdul Qadir avrebbe un ciondolo del genere? È possibile che ci sia una storia nascosta dietro questo oggetto? Forse un legame personale o emotivo con l'evento in cui Demir è stato colpito? Oppure potrebbe essere un simbolo di un coinvolgimento più diretto nei fatti accaduti? Queste domande aggiungono uno strato di mistero e complessità al personaggio di Abdul Qadir, rendendolo ancora più interessante e sfaccettato. Gli spettatori possono solo speculare sulle possibili risposte e sulle implicazioni che queste potrebbero avere per la trama generale della serie. Inoltre, la presenza di un proiettile in un ciondolo potrebbe essere un simbolo di qualcosa di più grande, forse un segreto profondo o un colpevole ancora da scoprire. Potrebbe essere la chiave per risolvere uno dei più grandi misteri della serie o potrebbe portare a nuovi, inaspettati sviluppi. Pertanto, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sugli episodi successivi e a prestare attenzione ai piccoli dettagli come questo. Spesso sono proprio questi elementi apparentemente secondari a fornire le risposte più sorprendenti e a guidare la trama in direzioni inaspettate. Il ciondolo di Abdul Qadir potrebbe rivelarsi molto più di un semplice oggetto. Potrebbe essere il tassello mancante che ci aiuta a comprendere meglio la complessa rete di eventi e relazioni in Terra Amara. Ricordati di scrivere in quel periodo di intensi cambiamenti e speranze che caratterizzava gli anni settanta in Turchia, la piccola comunità di Sukurova era avvolta da un velo di mistero e sorpresa. Demir Yaman, il potente proprietario terriero che tutti credevano perito in un tragico incidente, era in realtà vivo. Aveva scelto di rifugiarsi ad Ankara per sfuggire a minacce oscure che gravavano sulla sua famiglia. Ma non era l'unico a nascondere segreti. Vahap, un uomo dallo sguardo acuto e dalla mente astuta, aveva scoperto il rifugio di Demir. Era una notte fredda quando, passeggiando per le vie di Ankara, i suoi occhi incrociarono una figura familiare. Il cuore gli batte forte nel petto. Era davvero Demir? Le sue indagini confermarono i sospetti. Demir Yaman era vivo. La notizia giunse a Zuleya come un lampo a ciel sereno. La donna, che aveva versato lacrime amare per la perdita del marito, sentì un tumulto di emozioni invaderla. La gioia e la speranza si mescolavano a sentimenti di rabbia e tradimento. Come aveva potuto Demir lasciarla nell'incertezza più totale? Eppure, il pensiero di poterlo riabbracciare scaldava il suo cuore infranto. Nel frattempo, un altro colpo di scena stava per sconvolgere la vita degli abitanti di Sukurova. Fekeli, un altro personaggio chiave della comunità, creduto anche egli morto in circostanze misteriose, era in realtà nascosto a Smirne. Anni di lotta e di dolori lo avevano reso cauto, ma era giunto il momento di fare ritorno a Sukurova. La notizia del suo imminente ritorno fece rapidamente il giro della città. Lotfie, la donna che aveva sempre portato Fekeli nel cuore, sentì le gambe cedere sotto il peso dell'emozione. Era come se una parte di lei, sepolta da tempo, tornasse improvvisamente alla vita. La speranza di rivedere l'uomo che aveva amato in silenzio, per anni, riempiva i suoi giorni di un'attesa febbrile. Fikret, che aveva sempre visto in Fekeli una figura paterna, fu colto da un misto di gioia e incredulità. La sua mente era in tumulto. Che cosa avrebbe significato il ritorno di Fekeli per la dinamica della famiglia e per Ghili equilibri di potere a Sukurova? Il giorno del ritorno di Fekeli a Sukurova fu un giorno che nessuno avrebbe mai dimenticato. La sua figura imponente si stagliava contro il cielo al tramonto, mentre attraversava i campi dorati che aveva tanto amato. Lotfie lo attendeva, il cuore colmo di speranza e di timore. Quando i loro sguardi si crociarono, tutto il resto scomparve. Era come se il tempo si fosse fermato e in quel momento c'era solo loro, due anime che si ritrovavano dopo un lungo e doloroso viaggio. Fikret osservava da lontano, le emozioni che lo attraversavano erano indescrivibili. Vedere Fekeli, vivo e vegeto, era un sogno che si avverava. Le parole mancavano, ma non erano necessarie. Gli sguardi parlavano più di mille parole. La notizia del ritorno di Demir non tardò a raggiungere Sukurova. La tensione era palpabile. Come avrebbero reagito gli abitanti alla notizia? Che cosa avrebbe significato per la comunità e per i delicati equilibri di potere? Quando finalmente Demir e Zuleia si ritrovarono, il tempo sembrò fermarsi. Le parole non erano sufficienti a esprimere ciò che provavano. C'era dolore, sì, per le ferite del passato, ma c'era anche un amore profondo, capace di superare ogni ostacolo. E così, in quel lembo di terra fertile e solare che è Sukurova, un nuovo capitolo stava per essere scritto nelle vite dei suoi abitanti. Il tempo, come un fiume in piena che cambia il corso del suo letto, aveva portato con sé cambiamenti e rivelazioni inaspettate, intrecciando le sorti di persone e famiglie in una trama fitta di emozioni e speranze. Al centro di questo rinnovamento, due storie d'amore, così diverse e pure simili nella loro essenza, si ergevano come pilastri di un nuovo edificio, che stava per essere eretto sulle fondamenta del perdono e della comprensione. La prima, quella di Demir e Zuleya, era una storia che aveva conosciuto il sapore amaro della separazione e del malinteso, ma che ora prometteva una rinascita, un ritorno alle origini dove l'amore poteva fiorire nuovamente, libero dalle catene del passato. La seconda storia, quella di Fekeli e Lutfi, era un inno silenzioso alla tenacia del cuore umano, capace di custodire la fiamma dell'affetto anche nelle notti più buie, aspettando il momento in cui la luce dell'alba potesse finalmente rivelare la strada per il ritorno a casa. La comunità di Sukurova, un tempo divisa da invidie, segreti e dolori sepolti, si trovava ora di fronte alla possibilità di un nuovo inizio. Gli abitanti, testimoni di queste incredibili svolte del destino, iniziavano a guardarsi con occhi diversi, come se l'aria stessa che respiravano fosse impregnata di una nuova energia, di un invito a lasciarsi alle spalle vecchi rancori e a tendere la mano l'uno verso l'altro. I campi dorati di grano, che avevano assistito in silenzio alle vicende umane, sembravano ora sussurrare storie di speranza con ogni alito di vento. Anche la natura partecipava a questo rinnovamento, offrendo i suoi colori più vividi e i suoi profumi più dolci, come se volesse celebrare l'armonia ritrovata. Le serate a Sucurova, un tempo quiete e solitarie, si animavano ora di voci e risate. Le piazze e i caffè si riempivano di famiglie e amici, che condividevano storie e progetti per il futuro, tessendo una rete di solidarietà e affetto che rendeva la comunità più forte e coesa. Le difficoltà e le sfide, che certamente non mancavano, venivano affrontate con un nuovo spirito di collaborazione, con la consapevolezza che, uniti, era possibile superare ogni ostacolo. I bambini, con la loro gioia e la loro innocenza, correvano tra le strade e i campi, simbolo vivente di un futuro che si apriva ricco di possibilità. Le loro risate erano la musica più dolce per le orecchie degli adulti, un promemoria costante che ogni sforzo per costruire un mondo migliore era un investimento nel domani, nel benessere delle nuove generazioni. E mentre il sole tramontava su Sucurova, tingendo il cielo di sfumature arancioni e rosate, la comunità si stringeva in un abbraccio collettivo, consapevole che, nonostante le inevitabili tempeste che la vita porta con sé, l'amore e la resilienza sono faro, che guida verso porti sicuri. Era l'inizio di un nuovo capitolo, scritto con l'inchiostro dell'ottimismo e della fiducia reciproca. Un capitolo in cui ogni abitante di Sucurova era chiamato a essere autore della propria storia e, insieme, costruttore di un futuro collettivo radioso. Ti piacerebbe un ritorno di Demire e Fekeli in Terra Amara? Pensi sia possibile? Scrivilo nei commenti sotto al video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Terra Amara.